Ilaio e Jerry a Viperco, due prosecchi, un prosecco a testa, appena ho bevuto ho venuto su un'acidità di stomaco, su un mal di testa, eh ma perché rimane nel mio stomaco, eh, no perché cazzo del stomaco c'è, no, prosecchi di merda, quelli non avevano tutti. Che cazzo è, questo qua con quella merda che si beve, Dio, fa, è sempre lì che vomita, porco Dio, come le donne, va a mangiare fuori, come le donne in chiesa, quando le donne sono in marchesa, Dio, fa, ma va a fangulo, va, ma vuoi mettere quello che mangio io, quello che mangi tu, Dio, fa, ma che cazzo, Dio, io ero Deo, mica, siamo andati a bere due cocktail di merda, ha sboccato per tre giorni di tira.